Dopo le ultime aggressioni ai sanitari arriva finalmente il drappello al presidio della Pigna Secca, l'ospedale di Giuliano ancora criticita al pronto soccorso, il responsabile lascia per protesta. A Mugnano stamattina partiti i lavori per il primo asilo nido comunale dell'area nord di Napoli, nuove guide per le chiese cittadine dopo l'ordinazione del neobescovo Stefano Rega, show degli azzurri in Germania, il 2 a 0 resta stretto agli uomini di spalletti. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleclub Italia, canale 77. Apriamo parlando di sanità e di diversi casi di violenza e sul personale dei nosocomi napoletani, dopo l'ultimo episodio di aggressione all'ospedale Pellegrini di Napoli arriva il drappello di polizia. La violenza sui sanitari negli ospedali napoletani resta ancora un problema irrisolto che si aggiunge a quelli cronici come la carenza di personale. La situazione più critica resta al vecchio Pellegrini dove nei giorni scorsi si sono verificati altri episodi preoccupanti. Medici picchiati dal figlio di un uomo morto per arresto cardiaco ed una dottoressa minacciata da un paziente che non voleva attendere la fila. In entrambi i casi è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Immediato è stato anche il sopralluogo di funzionari della questura che hanno annunciato poi all'ASL Napoli 1 i tempi tecnici per l'apertura del primo posto di polizia in un pronto soccorso. La piena funzionalità del drappello scatterà dalle ore 14 del 1 marzo. Un traguardo atteso da tempo dal personale del presidio della Pignasecca è chiesto a gran voce dai sindacati. L'ubicazione prevista a livello del pronto soccorso e in prossimità della sala d'attesa e dell'area di triage consentirà ai poliziotti di sorvegliare l'intera area dell'emergenza, spesso bersagliata da raid vandalici e azioni di violenza. Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei Medici Partenopei, ha lanciato anche un appello provocatorio. Mi rivolgo ai camorristi, stop assalti o niente cure. Il problema è stato anche al centro dell'intervento alla Camera di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. I preparativi per aumentare la sicurezza negli ospedali e tutelarne il personale sono in corso anche al Cardarelli, dove ieri mattina il messaggio di pace per dire basta alla violenza è stato condiviso dall'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, che ha benedetto i nuovi locali nel pronto soccorso, intrattenendosi con ammalati e sanitari. Parliamo ancora di sanità, ma ci spostiamo su Giuliano e sul no so come, appunto sul San Giuliano. Si dimette il primario del pronto soccorso, ci informa su tutto in collegamento. Gaetano Praiola. Eh sì, purtroppo qui all'ospedale San Giuliano ed in particolare al pronto soccorso dei problemi cronici che addirittura negli ultimi mesi si sono aggravati ed hanno portato nei giorni scorsi alle dimissioni del dottor Mario Ciafrone una rinuncia all'incarico come un segnale di protesta. Infatti, soprattutto i sindacati parlano di promesse non mantenute per risolvere le diverse criticità del pronto soccorso del nosocomio giuglianese. Su tutte la cronica carenza di personale, a quanto pare in queste ore sarebbero arrivati in supporto anche dei medici in prestito dall'ospedale di Pozzuori. E poi restano i problemi strutturali e quella del grande afflusso in questo pronto soccorso. Addirittura ci hanno detto che si arriva al picco di 40-50 persone ricoverate sulle barelle in spazi praticamente piccoli che non potrebbero ospitare tutte queste persone con tempi d'attesa per i ricoveri che superano anche una settimana o addirittura oltre 10 giorni appunto perché i ricoveri sono bloccati, perché magari anche il reparto di medicina è intasato, non ha altri posti letto disponibili e dunque questi pazienti andrebbero spostati in altri ospedali ma questo richiede addirittura fino a due settimane in pochi spazi su una barella e un altro problema non da poco è anche l'assenza di linea telefonica nel pronto soccorso dunque questi pazienti restano praticamente isolati con la difficoltà del personale che come dicevo prima è in sottorganico. E poi ci sarebbero ancora dei lavori di ristrutturazione che non sono stati completati qui nel pronto soccorso dunque insomma una situazione davvero esplosiva che ha portato alle dimissioni del facente funzioni i sindacati valutano anche lo stato d'agitazione a seguire questa criticità e soprattutto il sindacato Cisle nelle prossime settimane, nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro con la direzione generale per provare a capire quali di questi problemi può essere risolto nel breve ma al momento la situazione resta esplosiva e dunque al pronto soccorso ha lasciato anche il responsabile appunto del reparto continueremo a seguire questa vicenda per il momento da qui io restituisco la linea. Grazie Gaetano, cambiamo decisamente argomento andiamo alla cronaca sequestro da 2 milioni di euro a un centro antidiabete nel Casertano secondo la guardia di finanza ha effettuato più prestazioni di quelle autorizzate sequestro da circa 2 milioni di euro tra immobili e rapporti finanziari a un'azienda sanitaria privata del Casertano i finanzieri del comando provinciale di Caserta hanno eseguito stamane il provvedimento nei confronti dell'impresa titolare di un centro antidiabete che fino al 2021 era accreditata con l'ASL il sequestro è stato disposto dalla Corte dei Conti a essere contestate al centro antidiabete sono le prestazioni erogate risultate ben superiori a quelle preventivamente autorizzate dall'ASL per ogni centro accreditato e che prevedono carichi di lavoro compatibili con determinati standard di adeguatezza e qualità dei servizi resi ai pazienti a dover fornire spiegazioni dovranno essere però anche altri 10 soggetti tra direttore sanitario del centro antidiabete nonché alcuni funzionari e dirigenti dell'ASL di Caserta l'accusa per i vari soggetti coinvolti a seguito delle indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta è a vario titolo di aver prodotto un danno finanziario all'azienda sanitaria pubblica pari all'importo del sequestro derivante proprio dalla liquidazione dei corrispettivi indebiti per varie tipologie di prestazioni diabetologiche tra il 2017 e il 2020 controlli in tal senso si stanno attuando anche nei confronti di altri enti accreditati che operano nello stesso settore sanitario Passiamo sulla cronaca un avvocato napoletano si è recato in carcere per andare a parlare con un detenuto ed è stato sorpreso con la droga e un microcellulare addosso destinati ovviamente al cliente il fatto è accaduto qualche giorno fa nel carcere di Santa Maria a Capuavetere protagonista un avvocato del foro di Napoli che è stato arrestato e posto ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio dalla polizia penitenziaria gli agenti hanno fermato infatti l'avvocato con circa 100 grammi di hashish cambiamo ancora argomento e ancora degrado alla galleria Umberto Primo di Napoli e commercianti e cittadini invocano più controlli sentiamo è ridotta male, è ridotta male, veramente anzi mi sono meravigliato che ci mancava da un po' di tempo nel vedere un po' di sporcizia anche attorno a me mi fa un poco male diciamo umanamente parlante continua il degrado della galleria Umberto Primo a farla da padrone in quello che nonostante tutto è uno dei monumenti più frequentati di Napoli sono sporcizia e dissesti strutturali i pavimenti un po' rotte, le scaline che sono un po' rovinate ci mettono le transenne vicino ma bisogna risolvere il problema invece no, mettono il recinto vicino e per mesi rimane così ed è pericoloso perché comunque noi abbiamo in galleria tantissimi turisti molti inciampano, comunque si fanno anche male mentre a Milano la galleria gemella è preservata come un gioiello qui non si contano le risse ma anche le gare di monopattino e calcetto in pieno giorno resta poi la questione senza titolo purtroppo si riprendono in galleria ma ci sono posti dove andare solo che loro non vogliono andare perché in Italia si devono ubriacare eccetera e rovinano la galleria che fanno di tutto prima mattina qua non avete idea che cosa cacciano questi ragazzi che puliscono la galleria tra coperte, poi fanno cacca dappertutto, pipì dappertutto, quella è la cosa più brutta mattina quando vengo qua e trovo qualcuno che dorme con tre o quattro cani dopo mi devo mettere a fare le pulizie oltre a pagare le tasse ti devi pure la situazione più volte finita sotto la luce dei riflettori sembra essere ad un punto di stallo i commercianti tornano a chiedere controlli notturni e diurni ma anche l'installazione di cancelli mobili per agevolare i compiti della vigilanza hanno messo i cancelli come all'altra galleria, la sera la chiudono oppure mettere qualcuno che riesce a tenere il controllo a livello di guardie giurate per esempio possono mettere anche le guardie giurate, volendo ci sono tanti negozi in galleria quindi la spesa dovrebbe essere risoria per loro torniamo dopo una breve pausa devi acquistare una nuova cucina? vuoi rinnovare quella esistente? rivolgiti a Mola Group gli specialisti delle cucine componibili e distributori per la campagna di marchi leader del settore ti invitiamo a visitare il nostro showroom di Qualiano in via circunvallazione esterna 235 dove personale specializzato ti aiuterà a progettare e realizzare la cucina dei tuoi sogni puoi scegliere tra una vasta gamma di elettrodomestici da incasso e libera installazione oltre ad accessori innovativi in grado di soddisfare ogni tua esigenza Mola Group è da oltre 30 anni sinonimo di competenza, professionalità e risparmio didattica di base ma anche tecnologia, arte e creatività all'istituto San Raffaele di Giuliano puntiamo allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e morale dei nostri allievi nel corso dell'anno scolastico i piccoli alunni sono impegnati in varie attività come inglese con insegnante madrelingua ed ancora laboratori di informatica, musica e lettura istituto paritario San Raffaele Nido, scuola dell'infanzia e primaria siamo a Giuliano in via Sant'Omaso 7 seguici su Facebook e Instagram rispettiamo le regole in materia di sicurezza sanitaria e offriamo professionalità, affidabilità e assistenza per le emergenze con un pronto soccorso odontoiatrico con reperibilità telefonica H24 al numero 366 45 42 467 lo studio dentistico del dottore Emanuele Manfredi si occupa di implantologia, conservativa, ortodonzia, protesi fissa e mobile odontoiatria pediatrica, pedodonzia ed endodonzia siamo a Mugnano in via Conte Caracciolo 13 seguici su Facebook e Instagram studio dentistico di Emanuele Manfredi il tuo sorriso è il nostro successo sweet chocolate per tutte le occasioni eccoci nuovamente in studio ripartiamo dall'incontro tenutosi a Napoli sulla parità di genere e lavoro incontro questa mattina della Wiltux per noi in collegamento Francesco Molaro sì grazie della linea io sono nella sede regionale della Wiltux Campania dove si sta svolgendo questo importante incontro sulla parità di genere con i vertici nazionali arrivati da Roma della Wiltux per il mondo del lavoro ma soprattutto per i diritti delle donne spesso e volentieri si lasciano in secondo piano le donne che lavorano soprattutto per i problemi legati ad esempio alla maternità si sta discutendo di questo si stanno affrontando le varie problematiche dei vari lavori proprio legati alla grande distribuzione per esempio in queste settimane ci sono stati grossi problemi nella nostra regione con la grande distribuzione e si sta parlando di questo con i vertici regionali e i vertici nazionali della Wiltux un momento di confronto in ricordo anche di Ornella Pinto proprio perché nella sede della Wiltux si ricorda la donna uccisa all'ennesimo femminicidio Ornella Pinto che faceva parte proprio della Wiltux io vi lascio alle interviste dove abbiamo provato a capire di che cosa si è parlato nella giornata di oggi qui a Napoli e intanto vi ridò la linea parità di genere la Wiltux in prima linea cosa fare però qual è il vostro obiettivo? il nostro obiettivo è quello di fare in modo che questi diritti e queste libertà fondamentali siano affermate all'interno del mercato del lavoro e del mondo del lavoro in Italia il divario di genere pesa molti punti percentuali in Europa questa distanza è ancora presente ma in Italia nel mondo del lavoro la differenza è quasi diventata incolmabile abbiamo bisogno di iniziative di iniziative strategiche per fare in modo che uomini e donne abbiano le stesse opportunità di accesso e di elevazione delle carriere i giovani e le donne sono l'annello debole in questo momento del paese e quindi hanno bisogno di essere tutelate queste fasce e poi in terziario c'è una grande quantità di occupazione femminile e ci sono quote di lavoro povero molto significativo la povertà del reddito porta con sé la povertà previdenziale in futuro e quindi siamo impegnati assolutamente nel valorizzare tutto il capitale umano in particolar modo le donne e i giovani sì noi abbiamo un nostro coordinamento di genere noi dedicamo queste attività e un impegno nostro congressuale ad Ornella Pinto Ornella Pinto vittima di femminicidi una figlia della Will della Will Tux noi in nome di Ornella Pinto vogliamo rendere attività concrete nei luoghi di lavoro e collaborare anche per farlo nella società perché il tema della donna il tema così come il tema dei giovani è un tema che non può essere relegato a uno dei tanti temi ma è un tema importante cambiamo argomento e ci spostiamo a Mugnano dove questa mattina c'è stata la posa della prima pietra del primo asilo nido comunale dell'area nord vediamo è stata posata la prima pietra del primo asilo nido comunale a Mugnano una giornata storica per la città che vede l'edificazione di una struttura dedicata ai bambini il primo asilo nido comunale per la storia di Mugnano ma in realtà uno dei primi asilo nidi comunali in assoluto in tutta l'area nord perché come sappiamo a parte la città di Napoli di asili nidi comunali non se ne vedono nei nostri territori è una scommessa che abbiamo voluto fare diciamo forse anche prima degli altri ben prima del PNRR perché qui noi siamo già appunto partiti con i lavori perché è un progetto che abbiamo ottenuto che abbiamo diciamo avuto il finanziamento grazie ai fondi strategici della città metropolitana di Napoli e il progetto prevede chiaramente oltre all'analizzazione dell'asilo nido comunale una bellissima area giochi per bambini un ampio parcheggio perché è importantissimo chiaramente parliamo di bambini molto piccoli e all'interno ci sta ovviamente tutto quello che serve per un asilo nido comunale che si rispetti con la differenziazione fra lattanti e divezzi un'area giochi anche diciamo esterna interna infermeria anche il luogo diciamo il deposito per i carrozzini il luogo di mensa la refezione insomma chiaramente con i tempi poi di gestione immagino che tra un anno e mezzo potremmo anche vedere diciamo aperta questa struttura e quindi poterla inaugurare parliamo di scuola dalla prossima settimana dovrebbe essere pronta la sede provvisoria per l'istituto Marconi di Giuliano per noi sul posto Calmen-Cadalt e dunque molto probabilmente martedì 28 febbraio gli studenti del Marconi potranno avere una loro sede dopo l'incontro che c'è stato il 16 gennaio era proprio il 28 di febbraio il giorno in cui sarebbe stata consegnata la struttura dedicata agli studenti del Marconi che per ieri alle nostre spalle che è appunto Villa Gallo una vicenda molto lunga che ha interessato gli studenti il personale scolastico ma tutta la città di Giuliano diverse mobilitazioni questa villa era stata aperta lo ricordiamo per l'open day in cui tutta la scuola ha presentato ai futuri studenti anche alla cittadinanza intera tutto il programma i progetti e le attività scolastiche per invitare gli studenti comunque ad iscriversi poiché da qui a breve avrebbero avuto una nuova struttura nel frattempo quella storica di via Basile sarebbe stata interessata dai lavori di riqualificazione al momento non vi sono ancora certezze ma lo ricordiamo il 28 dovrebbe essere l'ultimo giorno utile per prendere possesso insomma della scuola noi seguiremo ancora la vicenda e ve ne renderemo conto qualora ci dovessero essere delle news dunque la linea può tornare a postura grazie Carmen restiamo a Giuliano ma parliamo di altro tema balzer di sacerdoti a Giuliano dopo la nomina a vescovo di Rega Monsignor Spinillo vescovo di Aversa ha decretato gli spostamenti di vari preti tra questi apicelli arriva nella parrocchia di San Nicola e Pugliese al santuario dell'Annunziata balzer di sacerdoti tra le parrocchie e il santuario dell'Annunziata di Giuliano ieri il vescovo Angelo Spinillo ha comunicato al termine della concelebrazione delle solenni quaranture presso la congrega della natività di Maria Santissima di Licoda le nuove chiese assegnate ai preti spostamenti e passaggi di testimoni che sono previsti dalle diocesi dopo anni che un sacerdote stanzia in una chiesa la notizia era già nell'area dalla nomina di Monsignor Stefano Rega a Vescovo e per cui proprio questo sabato ci sarà una giornata a lui dedicata tra iniziative al comune ed una processione che sarà seguita in diretta dalla nostra emittente prima che Rega si insedi definitivamente nella diocesi di San Marco Argentano Scalea in Calabria a succedere proprio a Rega alla parrocchia di San Nicola e Don Vincenzo Apicelli per anni rettore del santuario dell'Annunziata dove invece arriverà Don Luigi Pugliese che lascia dunque la chiesa di Pontericcio proprio nella parrocchia di San Matteo la nuova guida sarà Don Massimo Condidorio attualmente vice parroco nella chiesa di San Marco Monsignor Spinillo ha poi indicato Don Massimo del Prete rettore del convento Santa Maria delle Grazie che è chiuso dall'estate da quando l'ordine provinciale dei frati minori ha imposto la chiusura per mancanza di vocazioni da adesso dunque riprenderà normalmente la vita pastorale anche nel convento dei monaci come fino a che è stato abitato e vissuto dai francescani infine a sostituire Don Massimo nella parrocchia di Sant'Anna sarà Don Giuseppe Cartesio Cambiamo ancora passiamo alla politica era nell'aria da settimane ieri è arrivato l'azzeramento di giunta a Caivano un momento duro per l'amministrazione a Guida Falco lo avevano chiesto i consiglieri del Movimento 5 Stelle di Noi Campani ed Italia Viva e alla fine l'azzeramento di giunta a Caivano è arrivato brusca frenata quindi per l'amministrazione comunale a Guida Enzo Falco primo cittadino eletto nel 2020 grazie ad un'alleanza formata da sette liste di centrosinistria PD il partito più votato Italia Viva Movimento 5 Stelle Noi Campani gruppo che fa riferimento a Clemente Mastella Democratici Riformisti Articolo 1 ed Europa Verde più volte in questi anni si sono presentati momenti di crisi o impasse a scuotere le acque in quest'ultimo periodo l'uscita della maggioranza della consigliera Giovanna Palmiero ieri poi la deastica decisione di sospendere le deleghe per tutti gli assessori le forze politiche dell'attuale maggioranza ha precisato Falco mi hanno dato di comune accordo il mandato di azzerare la giunta municipale l'obiettivo è quello di rilanciare ulteriormente l'azione amministrativa a due anni dall'inizio dell'esperienza a partire già dal prossimo bilancio di previsione che finalmente sancirà il consolidamento dei conti pubblici nel comune di Caivano certo è che l'obiettivo non sarà di facile raggiungimento la formazione della nuova giunta dovrà passare attraverso un lungo lavoro di trattative che tengano conto delle mutate forze politiche al momento è presto dire se ci saranno riconferme o se i partiti dovranno trovare tutti i nomi nuovi torniamo con lo sport dopo una breve pausa Will Service è una società che offre servizi di sicurezza specializzati